a noi di millennium piace supportare le aziende o comunque chi ha un'attività e ha voglia di eh continuare alla grande di anzi di farsi conoscere ancora di più perché soprattutto quando si tratta di puro artigianato italiano quindi cose fatte completamente in Italia con le nostre mani e con le mani in questo caso di Elena Guglione che salutiamo perché è la proprietaria del marchio Occhel Giurive. Ciao Elena, buongiorno. Buongiorno Roberto. Allora, cara Elena, eh in innanzitutto cominciamo col dire che eh da te sì ci sono manifatture con cura e attenzione del dettaglio eh per personalizzare dagli asciugamani ai cuscini, pupazzi, eh ma insomma c'è veramente di tutto, c'è tutto un mondo, ma come è nata questa passione per il mondo tessile in generale? Beh allora diciamo che la mia passione è nata fin da piccolissima, io cercavo sempre degli avanti di tessuto, andavo da mia mamma, gli rubavo i i tovaglioli per fare i vestiti per le mie rambole. Poi la curiosità è cresciuta, diventata sempre più importante, quindi alla fine quando è stato il momento di scegliere la scuola superiore ho naturalmente scelto la strada del perito testo e perché eh era quella che mi interessava di più e mi ha permesso soprattutto di avere una conoscenza molto più ampia dei materiali e di avere anche una preparazione culturale e tecnica che lo studio ti può dare, quindi lo studio è una cosa importantissima, al di là poi di quello che farai nella vita. Sì sì, questo è vero insomma ci vuole la passione ma ci vuole anche lo studio giustamente. Esattamente, questa è una cosa che dico sempre, bisogna studiare sempre e non c'è mai finito di imparare. poi, vabbè, io ho sempre cucito vent'anni fa, così da un'idea nasce Occhio Giudice che è la mia attività e niente, la mia avventura va avanti, continua, per me è una magia il fatto di lavorare con i tessuti, è una passione che non mi abbandona mai, nei tessuti vedo delle possibilità infinite e quindi do sfogo alla mia fantasia, cambi sacco di cose, in quel momento lì io mi sento sempre in un mondo parallelo, di fantasia, incantato e è proprio una cosa che è mia, è mia e mi piacerebbe e mi piace trasmetterlo agli altri. Allora cerchiamo di trasmettere questa cosa, questa tua passione agli altri e visto che siamo anche periodo natalizio, quali sono le cose che consiglieresti, quali sono le idee che vanno magari anche per la maggiora o che ti chiedono anche di più per fare dei regali di Natale proprio venendo da Occhio Giulive? Allora, prima di tutto penso che la cosa più importante sia cercare di capire che cosa vuole il cliente, quindi la prima cosa è dare la propria disponibilità e mettere al servizio l'esperienza che si acquisita negli anni. Poi il prodotto, c'era proposto di un prodotto fatto a mano, su misura esclusiva di qualità e quello ha l'obiettivo di rendere tranquillo, contento il cliente e farlo sentire bene, perché negli oggetti quotidiani la cosa importante è che quando tu arrivi a casa ti trovi a casa e stai bene, per cui anche nei piccoli oggetti secondo me ci deve essere una cosa del genere. Poi ci vogliamo aggiungere anche il ricamo e ricamo da quel tempo in più quella cosa che è diverso dagli altri. Invece volevo, sì, dimmi, dimmi. No, dico, se volevamo pensare qualcosa per Natale direi che il Mart è la coppia di asciugamani per il bagno. Ok. Ed è quello che è più richiesto, diciamo così. Poi ci sono gli accessori per la cucina oppure potrei proporre le sportine con i pensieri delle ocche, che sono una cosa un po' particolare. i cuscini, vabbè, i cuscini puoi fare qualsiasi cosa, le frasi dedicate, tutto quanto. Sì, 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 sì. Per gli uomini, che così comprendiamo anche loro. Sì, grazie. Le cifre su le camicie che sono sempre una cosa molto raffinate e elegante, che poi lo piace sempre. Per i bambini mi piaceva l'idea del libro Cuscino, che è una cosa molto particolare. E poi, se proprio vogliamo arrivare al top, secondo me, sempre. Sì. E se vogliamo sognare, la mia oca di Ramondo, che è il tuo posto che faccio io, che è il mio proprio, della mia oca che si chiama Giudi, è l'oca giudiva. Quindi queste sono le cose che io propongo, però ce ne sono tantissime altre, perché soprattutto se viene in mente un'idea, un qualcosa. Tu la crei. Qualunica persona mi può chiamare e mi dice, ah, un'idea questa cosa, me la fai? E vediamo, cioè, io ci metto tutto l'insegno e la mia passione. Perfetto. Elena, senti, a parte il fatto di andare a vedere il tuo sito che è occhiogiulive.it ed è bellissimo, ci sono tutte le cose che hai appena raccontato, ma soprattutto fisicamente, con la giusta distanza, la mascherina e tutto quanto, ma dove possono venirti a trovare? Allora, io ho il laboratorio a casa mia, che è in via del Gaggio numero undice a Varese. Perfetto. Io ringrazio tutte le altre cose che le trovate sul sito, lo ripeto, occhiogiulive.it, carinissimo. Elena, è stato un piacere averti con noi. Anche per me. Ti ringrazio tantissimo per la tua passione, si sente che ne hai tanta di passione, e ti auguro veramente un bel Natale, soprattutto come diciamo a tutti, ma ce lo diciamo anche a noi stessi, un buon 2021. Grazie mille. Speriamo, grazie e buon Natale a tutti.